Bene, io ringrazio tutti perché dirli tutti sarebbe impossibile. Ringrazio il Presidente della Regione Stefano Bonaccini che ci ha supportato, forse anche sopportato, ma io sono un cittadino bolognese adottato. Dall'87 ho conosciuto questa città, questa regione e da qua non mi sono più mosso. Ringrazio il Comune di Bologna, ringrazio la Curia, ringrazio tutti quanti, non li dico perché sennò ho paura di dimenticarmi qualcuno. Ringrazio tutte le squadre che sono venute, hanno portato un pezzo del loro cuore, anche da molto lontano perché ricordiamo i giapponesi, i canadesi, gli olandesi. Sono emozionato qui davanti al mio Dall'Arra. Ringrazio tutti quanti, è stata per me una terza edizione sensazionale, finita poi nel meglio perché abbiamo visto delle giocate anche dal punto di vista tecnico eccezionale, tant'è che siamo stati molto molto in difficoltà nell'eleggere i trofei che verranno adesso assegnati. Rinnovo l'appuntamento forse l'anno prossimo ma durante anche l'anno saremo presenti perché We Love Football è nato due anni fa e vuole essere un contenitore, un nuovo movimento per supportare lo sport sano, il calcio vero. Grazie ragazzi, thank you very much to be here. I love you.